Abbiamo bocciato il nostro pacchetto energia con sei proposte concrete che avrebbero dato ossigeno alle piccole e medie imprese toscane. Il PD non ha voluto creare questi bandi per incentivare la domanda per installazioni di impianti fotovoltaici, impianti solari e termici, interventi per abbattere e riqualificare energeticamente gli edifici con sostituzione degli infissi, nuove coperture o riepimentazioni delle pareti. La politica del PD è una politica ottocentesca così come l'idea che hanno dell'energia.